TVA è sempre con voi. In tutta Italia con la sua intera programmazione sul canale 268 delle Smart TV. E poi sul 93 del digitale terrestre. Con il TG, in onda ogni giorno alle 15, alle 20 e alle 9 del mattino. Sul sito www.televideoagrigento.tv. Ovunque nel mondo, con la TV in streaming. E ancora sui nostri canali social, YouTube, Facebook e Twitter dove carichiamo tutti i servizi, speciali, trasmissioni. TVA. Ovunque da sempre e sempre con te.